Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io mi chiamo Antonio De Luca e mi occupo di Educational Investing per Fineco. Durante il webinar di oggi ci focalizzeremo sul tema della diversificazione e vedremo anche qual è il ruolo che ricopre. Prima di entrare nel vivo degli argomenti vi ricordo che qualora aveste delle domande da pormi potete utilizzare la chat. Le domande verranno raccolte e durante la navigazione che andremo a fare insieme sul sito Fineco andremo a quel punto a dare le risposte. Il webinar è registrato e lo potrete trovare andando in fondo alla pagina di Fineco, trovate una sezione dedicata alla formazione, lì cliccate su scopri di più e in quel modo andrete alla pagina proprio dedicata alla formazione Trading Investing. Poi cliccando su Video Library troverete la sezione, il secondo menu a tendina, quello sulla destra. Selezionando la voce Investing potrete trovare il video di oggi e quindi potrete andarlo a rivedere in qualsiasi momento. Diamo ora inizio al webinar. Cosa vedremo insieme? Parleremo di ansia da mercati, notizie e flussi di dati da tenere sempre sotto controllo. Parleremo di diversificazione e di controllo del rischio, parleremo di monitoraggio e poi ci faremo una domanda. La domanda sarà, esiste una soluzione di investimento che va proprio nella direzione dei contenuti che saremo andati a vedere insieme? Da qui una delle modalità di ingresso sui mercati, un ingresso di tipo graduale e anche lì scopriremo come. Entriamo ora nel vivo degli argomenti che abbiamo appena citato. Vorrei che iniziassimo questo webinar ponendoci una domanda. Qual è lo stato d'animo che ci suscita pensare ai mercati finanziari? E quindi il pensiero mi genera ansia o mi genera serenità? I mercati finanziari sono tipicamente imprevedibili e possono essere a volte anche molto volatili, dove guadagni e perdite si alternano tra di loro. Un'immagine molto rappresentativa e molto diretta e immediata è proprio l'immagine per esempio delle montagne russe, ovvero trovarsi in una carrozza che corre su un binario e questa carrozza durante il suo percorso a un certo punto sale, poi scende, poi risale, poi scende nuovamente e così via si intervalla. Qual è però la sensazione che tutto questo movimento vi genera? Ma proviamo insieme a fare un altro esempio e quindi diciamo se per esempio riflettiamo sul fare un viaggio e a quel punto è evidente che questa esperienza può generare, il fare un viaggio può generarci diversi tipi di sensazioni, diversi tipi di emozioni. Per esempio può crearci eccitazione, preoccupazione, fiducia, ma anche una certa dose di ansia, soprattutto quando ci troviamo di fronte a una nuova destinazione. Allora pianifichiamo l'itinerario o ci preoccupiamo per gli imprevisti che potrebbero magari presentarsi lungo il percorso. In breve, si tratta anche in questo caso di una, per similitudine all'esempio di prima, una montagna russa di emozioni. Una domanda legittima a questo punto sorge spontanea. Perché proviamo tutte queste emozioni diverse e a volte anche contrastanti tra di loro? In altre parole, perché nel mondo finanziario proviamo così tante emozioni differenti quando investiamo? Perché dobbiamo affrontare emozioni come divertimento, ma anche preoccupazione, anche euforia, talvolta anche una forte dose di nervosismo? La risposta è molto semplice, perché sul piatto che cosa c'è? Ci sono i nostri risparmi, risparmi accumulati con tanta fatica, risparmi che vogliamo utilizzare bene, però vogliamo anche tutelare. Quando decidiamo di investire, la parte difficile diventa non farsi influenzare anche dall'emotività e cercare di guadagnare, ma cercare di guadagnare, come dire, stando attenti però a quello che accade al mondo finanziario e quindi prestando attenzione a quello che accade nei mercati. Le emozioni possono aiutarci, però il problema è che a volte possono anche ostacolarci. A questo punto è bene dire che occorre quindi fare molta attenzione alle decisioni prese di istinto, perché a volte queste potrebbero magari portarci a prendere decisioni che potrebbero essere non proprio le migliori per i nostri obiettivi. Quindi ogni volta che prendiamo una decisione dovremmo chiederci se quella decisione è figlia di che cosa? Della razionalità o è figlia dell'istinto? Proprio perché per cercare di non farci eccessivamente influenzare dalla componente emotiva è bene anche capire qual è la provenienza, qual è l'origine che poi ci ha portato a prendere quella decisione, quindi da dove nasce quella considerazione che poi si trasformerà in decisione. Andando ancora avanti, procedendo in questa direzione, dobbiamo tenere a mente che le nostre decisioni molto probabilmente sono spesso influenzate anche dalle informazioni che abbiamo a nostra disposizione. Il punto è che oggi siamo letteralmente bombardati dalla quantità enorme di informazioni e questo cosa fa? Rende tutto, rende la vita tutto tranne che facile. Immaginate solo quanti messaggi riceviamo ogni giorno sui social media, le notizie che scorrono sulle testate online, i video su YouTube, i podcast, i messaggi su WhatsApp e molte altre ancora. Abbiamo davvero a disposizione una quantità smisurata di informazioni ed è impossibile riuscire a leggere e ad assimilare tutto quello che viene prodotto magari in una sola giornata. Figuriamoci se questo lo estendiamo e pensiamo a quanto viene prodotto e di conseguenza da leggere, analizzare, assimilare in una settimana, in un mese e così via. Capite che il quantitativo di informazioni è veramente un quantitativo importante. Ma qui nasce una domanda altrettanto importante ed è quanto di ciò che leggiamo è realmente veritiero? È facile cadere nella trappola delle notizie false o delle notizie distorte anche senza accorgerci. Le cosiddette fake news sono informazioni che sembrano vere ma in realtà sono totalmente inventate o manipolate per influenzare il nostro pensiero. Questo tipo di notizie possono riguardare tantissimi argomenti, ad esempio politici, economici per l'appunto, scientifici o sociali e spesso vengono anche diffuse in modo virale e come attraverso i social media al più delle volte. Ecco perché è fondamentale sviluppare a questo punto un atteggiamento critico nei confronti delle informazioni che riceviamo. Dobbiamo imparare a capire quali sono le fonti affidabili e quali invece no. Dobbiamo imparare a approfondire i fatti, a verificare le fonti e a mettere in discussione anche le informazioni che sembrano sospette. Non possiamo permettere che queste fake news influenzino le nostre decisioni, in particolar modo quando si tratta di questioni di natura finanziaria. Pensateci un attimo, per esempio, se veniamo a conoscenza di una notizia falsa che sostiene che una determinata azienda sta per fallire, potrebbe essere che potremmo magari essere tentati di vendere le nostre azioni di quella società e magari in questo caso potremmo subire anche una perdita che però è ingiustificata. Non è un tema di effetto mercato, è un tema di cattiva informazione. Allo stesso modo, se sentiamo una voce che promuove un nuovo prodotto miracoloso, potrebbe capitare che questa voce di questo nuovo progetto, che potrebbe essere un bel trampolino di lancio per una società, in realtà questo poi ci porta a investire. Però ci porta a investire in qualche cosa che in realtà potrebbe rivelarsi non veritiero. Le conseguenze potrebbero anche in questo caso essere dannose, sia per il nostro portafoglio che per il nostro, chiaramente, benessere finanziario. Ecco perché vi invito a non dare per scontato la veridicità di tutto ciò che leggete. Prendetevi il tempo necessario per verificare le notizie, cercare le fonti affidabili, leggere diverse opinioni, magari fare le vostre valutazioni in base però, questa volta, a fatti reali. In un unico modo, in un'unica soluzione, qual è il problema? Il problema è che ci troviamo in un'epoca in cui le informazioni sono così abbondanti, le capacità di filtrare e saper scegliere a questo punto diventa veramente un requisito fondamentale. È proprio una caratteristica, direi, decisamente cruciale. Ricordatevi che questa competenza è importante per tutte le fasce d'età, non c'è una fascia d'età che ne è esonerata. Seppure in modo diverso siamo tutti esseri umani e quindi siamo tutti potenzialmente attaccabili e potenzialmente potremmo essere vittime proprio delle fake news. Perciò vi incoraggio a coltivare un atteggiamento critico e di fidare delle informazioni che sembrano troppo belle per essere vere e che vengono magari da fonti che risultano poi, in fondo, non essere verificate. Siete consapevoli del potere delle fake news e prendete anche il controllo delle vostre decisioni finanziarie basandovi a questo punto su informazioni che risulteranno essere accurate e affidabili. Capita l'influenza e che l'emotività potrebbe avere nelle nostre scelte e capito il livello di attenzione che occorre mettere quando analizziamo le informazioni, il passaggio immediatamente successivo quindi resta solo che iniziare a investire. Ecco però dove sorge la domanda. Ho sentito spesso parlare di diversificazione e di rischio di portafoglio ma cosa significa esattamente diversificare e come può aiutarmi nei miei investimenti nella ricerca del contenimento del rischio? Per dare una risposta a questa domanda partiamo proprio da questo grafico. Il grafico infatti ci mostra che dal 1999 ad aprile di quest'anno se avessimo scelto uno dei due grafici ovvero quello azionario che è la linea rossa e o il grafico obbligazionario che è la linea di colore blu avremmo assistito ad andamenti di volatilità decisamente diversi. Vedete che la volatilità dell'azionario in questo caso è stato analizzato l'azionario Europa è una volatilità annua del 19% mentre la volatilità dell'obbligazionario in questo caso il governativo area euro cioè la linea blu è una volatilità annua del 4,25%. Due volatilità completamente diverse figlie di due mercati però molto diversi. Abbiamo però vedete che in questo esempio io vi ho citato una parola e questa parola è la parola volatilità se dovessimo dare una definizione di volatilità diremmo che la volatilità di uno strumento finanziario indica quanto il suo valore può variare nel tempo. In altre parole misura la tendenza di un investimento a fluttuare in termini di prezzo o in termini di rendimento. Ma nel nostro esempio stiamo guardando due andamenti che lavorano singolarmente, non lavorano insieme ognuno segue la propria strategia. Se invece facessero un lavoro diverso ovvero li facessimo lavorare insieme, li combinassimo mettendoli magari all'interno di un portafoglio ci accorgeremmo che i due elementi farebbero cercherebbero perlomeno di fare un lavoro di squadra e cercherebbero di ottenere insieme una riduzione della volatilità. Infatti iniziando da questi due portafogli come vedete molto diversi tra di loro, cioè uno azionario abbiamo detto e uno obbligazionario, nel momento in cui li combiniamo realizziamo un terzo portafoglio che è questa linea di colore arancione, è un portafoglio che in questo caso lo abbiamo realizzato con un 50% azionario Europa, 50% obbligazionario governativo area Euro, vedete che ha un atteggiamento molto diverso. Pur avendo in questo caso un rendimento migliore ma il focus in questo momento non è il rendimento, in questo caso come volatilità ci avviciniamo di più alla volatilità realizzata dalla componente obbligazionaria, infatti se vediamo la linea arancione la volatilità annua è del 9,45% vedete che è molto più vicina a quello del portafoglio obbligazionario rispetto invece al portafoglio azionario. Andando ancora avanti, se per esempio a questo portafoglio aumentiamo il livello di diversificazione, aggiungendo altri diversificazione, tra poco ci arriviamo, aggiungendo altri due mercati, abbiamo aggiunto il mercato azionario Nord America e abbiamo aggiunto anche il mercato obbligazionario internazionale e anche questa volta li abbiamo distribuiti tutti in parti uguali. Possiamo notare che dal grafico, confrontandolo con il grafico precedente che è la mia linea arancione di prima, quindi quella blu è quella nuova ricostruita con queste pesature, quella arancione invece è la pesatura precedente con soltanto l'azionario Europa e l'obbligazionario governativo area euro. Quindi confrontandoli con il grafico precedente avviene che cosa? Un'ulteriore riduzione della volatilità e anche in questo caso un miglioramento dei risultati, in particolar modo in questo esempio specifico questo avviene dal 2015 in poi e vedete che la volatilità annua passa dal vecchio 9,45% si riduce a 9,02%. Ma aggiungiamo un altro elemento e quindi diciamo va bene, ma se ancora una volta a questo portafoglio aumentassimo la diversificazione, ovvero aggiungiamo altri 10 differenti mercati, differenti mercati e nel farlo cerchiamo di costruire un portafoglio bilanciato facendo anche magari attenzione a definire il peso eh da attribuire a ciascun mercato, quindi questa volta non abbiamo fatto una distribuzione ehm uguale tra tutti i mercati. Con la combinazione costruita troviamo in questo caso la massima efficienza di portafoglio in termini di rischio rendimento e vedete che ancora una volta è accaduta un'ulteriore riduzione della volatilità dal nove per cento della combinazione precedente al sette trenta per cento della combinazione attuale. Questo è proprio l'effetto della diversificazione che è in grado di fare questo mh questa azione. E quindi con questo esempio cosa si voleva mostrare? Si vuole mostrare come opera e quale azione sul portafoglio ha il concetto proprio della diversificazione che abbiamo citato più volte. La diversificazione è un concetto fondamentale nel mondo del campo degli investimenti. Che cos'è? Si tratta di una strategia che consiste nel distribuire i propri fondi in modo equilibrato su diverse su diverse categorie di attività finanziarie come possono essere azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, eh una distribuzione per settori, per paese o per altre opportunità di investimento. Però vedete che c'è una diversificazione di tipologia al suo interno. L'obiettivo della diversificazione qual è? È la riduzione del rischio del portafoglio. Eh investendo in diverse tipologie di asset come abbiamo fatto nel nostro esempio ehm cosa avviene? Si mira a bilanciare i potenziali guadagni e le potenziali perdite in modo da mitigare gli effetti negativi che potrebbero derivare da un singolo investimento o magari da un settore specifico di mercato. Immaginate di avere eh tutti i vostri risparmi investiti in un'unica azione di un'azienda. Se questa società eh dovesse magari sperimentare una crisi o un calo significativo del valore delle sue azioni. Tutto il vostro capitale risulterebbe a rischio perché avete concentrato. Invece diversificando il vostro portafoglio su diverse azioni però distribuite in settori differenti e classi di attività differenti potreste ridurre l'impatto negativo di un singolo evento sul vostro investimento complessivo. La diversificazione offre anche eh l'opportunità di partecipare ai potenziali guadagni provenienti da diversi settori o asset finanziari che possono crescere magari in modo indipendente proprio perché si va a lavorare in ambiti di manovra diversi. In altre parole mentre alcuni investimenti possono andare male altri potrebbero avere prestazioni positive contribuendo però a compensare le possibili perdite e generare rendimenti complessivi più stabili nel lungo termine proprio perché diversi settori l'obiettivo è fare in modo che tra di loro si sostengano. È importante sottolineare che la diversificazione però non garantisce profitti o protezione totale dalle perdite perché qui l'obiettivo è fare in modo che le varie i vari asset i vari settori vadano tra di loro a sostenersi. La diversificazione è per l'appunto una strategia. È una strategia finalizzata a gestire il rischio e a migliorare la possibilità di ottenere risultati equilibrati nel medio-lungo periodo. Quindi questo è il compito e la potenzialità, la possibilità che mette a disposizione il concetto di diversificazione. Una volta identificati gli investimenti da effettuare è importante ricordare che non devono essere lasciati a loro a loro stesi, abbandonati al loro destino, ma devono essere seguiti ma seguiti con anche estrema attenzione. L'obiettivo diventa a questo punto comprendere quanto i prodotti finanziari scelti contribuiscono alla nostra strategia finanziaria desiderata. Tutto questo si traduce in un costante controllo del portafoglio e nella capacità di monitorare tutto quello che accade. Ci sono alcune domande che comunemente ci poniamo, che ci poniamo con regolarità, come per esempio potrebbe essere se i vari elementi del portafoglio stanno ottenendo buoni risultati. Questa è una domanda classica. Oppure un'altra domanda potrebbe essere se è necessario sostituire qualche strumento che ho all'interno del portafoglio. E qui però richiede un'attenta analisi da parte nostra. Inoltre il portafoglio potrebbe essere un portafoglio che genera oppure no cedole e dividendi. Ero alla domanda se genera cedole e dividendi perché in funzione alle tipologie di strumenti che ho inserito alcuni di questi danno questa possibilità. A quel punto però dobbiamo decidere come voler utilizzare questi flussi di entrata. Li lasciamo sul conto corrente o decidiamo di reinvestirli? E se optiamo per il reinvestimento? Quali sono gli strumenti finanziari che dovremmo magari acquistare per integrare quella che è la nostra strategia? Quindi questo si traduce nella scelta dei prodotti finanziari più adatti per le nostre esigenze. Un'altra domanda importante riguarda la prestazione complessiva del portafoglio. Se per esempio seguendo la strategia che abbiamo stabilito dovesse essere necessaria portare delle modifiche che in gergo si usa dire occorre operare un ribilanciamento del portafoglio. Abbiamo contezza nel capire che tipo di interventi occorre fare? Tutte queste domande come come avrete potuto notare ruotano intorno al tema del monitoraggio. Monitoraggio che però deve risultare costante sui nostri investimenti. Non può essere fatto in modo saltuario. Una vera e propria attività. Ad esempio potremmo acquistare per poter venirci incontro perché esistono diverse strade che potremmo percorrere per poter realizzare questa sorta di monitoraggio. E allora da lì le più varie. Dall'acquistare una licenza di un software finanziario. Scelta interessante. Però che cosa comporta? Oltre a sostenere il costo del software vuol dire che poi dovrò anche capire imparare a utilizzarlo e dovrò dedicare del tempo per poter poi sfruttare eh quell'investimento. Ma qui la domanda diventa un software finanziario per il tipo di attività che devo svolgere. Riesco a sfruttare al massimo le sue potenzialità considerato il fatto che comunque ho fatto un investito un investimento di natura economica? Ho il tempo necessario per poter capire in modo approfondito come quel software funziona per poterlo applicare utilizzare nella maniera corretta? Senza arrivare ad acquistare un software finanziario potrebbe essere un'altra scelta andare a realizzare un foglio di calcolo con un tool di calcolo. Il più comune magari potrebbe essere Excel che è notoriamente utilizzato. Ma anche qui più o meno siamo nella stessa direzione dell'altro software ovvero va bene utilizzo un foglio di calcolo per poter fare le mie lavorazioni. Ma questo prevede in prima battuta il primo passaggio che è andare a strutturare questo foglio di calcolo per accogliere poi i dati finanziari. Inserire e impostare tutte le formule finanziarie che poi potranno essermi utili e anche lì vuol dire che dietro devo fare uno studio per capire che tipo di formule possono essermi utili alle mie analisi finanziarie. Nel momento in cui ho impostato questo foglio di lavoro però lo dovrò alimentare costantemente con tutti i nuovi set di dati finanziari. Però vedete che il tutto richiede da una parte un certo tipo di nozioni, dall'altra parte un grande investimento in termini di tempo. Quindi qual è qui a questo punto il tema vero? Che dobbiamo trovare quella strada e quell'equilibrio di portafoglio che ci permette di dormire sonni tranquilli dedicando però a loro il tempo adeguato e allora la devo decidere qual è la modalità che mi permette proprio di identificare qual è il tempo giusto da dedicare ai miei investimenti. E ancora una volta dopo aver strutturato tutto questo quindi dobbiamo ricordarci ancora una volta di tenere a bada la componente emotiva perché questa si può insinuare in qualsiasi momento e ricordiamoci che può decisamente poi influenzarci. Partendo da tutte queste considerazioni sappiate che Fineco Asset Management ha realizzato una famiglia di prodotti finanziari che lavora proprio in questa direzione ovvero è supportata da gestori i quali però utilizzano strumenti avanzati dedicati ai gestori di portafoglio. Ricordiamoci che un gestore per fare le sue considerazioni e per seguire la propria strategia si avvale di strumenti evoluti ovvero si avvale di strumenti professionali, strumenti che per il singolo cliente risulterebbero o troppo costosi o magari complessi nell'utilizzo. E quindi come vi dicevo il gestore ha a sua disposizione degli strumenti diversi da quelli che sono utilizzati tipicamente da un normale investitore proprio perché il gestore si avvale di questi strumenti per la sua attività quotidiana. La cosa interessante è che acquistando prodotti come questi state beneficiando anche della competenza e della professionalità dei gestori di Fineco Asset Management. A questo punto sicuramente vi starete chiedendo che cosa c'è all'interno di questi strumenti, di questi prodotti? Allora all'interno trovate principalmente fondi comuni di investimento e vengono selezionati seguendo criteri di qualità, di diversificazione, di efficienza finanziaria. Però attenzione senza dimenticare il controllo costante del rischio dello strumento che abbiamo detto essere un elemento essenziale poi nella strategia di investimento. Ricordiamoci che il controllo del rischio è abbiamo detto un elemento essenziale, è un elemento fondamentale, è quella fase che ci accompagna lungo tutta la vita dell'investimento e che ci permette di non incorrere o di ridurre notevolmente l'impatto della componente emotiva che ricordiamo essere componente che può danneggiare seriamente la strategia di investimento che abbiamo realizzato e che stiamo seguendo. Però andiamo ora a vedere insieme quali sono questi prodotti, questi strumenti. Esistono diverse linee di prodotto e per realizzarle Fineco Asset Management ha identificato per ciascuno un livello diverso di rischio. Fatto questo passaggio cosa ha fatto? Ha studiato la composizione degli elementi che erano utili per creare la migliore combinazione come mix di strumenti da includere all'interno del portafoglio. Che tradotto vuol dire identificare una serie di portafogli che possono essere considerati ciascuno singolarmente dei portafogli efficienti. Per poterli considerare efficienti però occorre che posseggano dei requisiti limiti. Ossia rimanere all'interno del massimo livello di tolleranza al rischio identificato per quel singolo portafoglio, per quel singolo profilo e cercare di raggiungere un adeguato rendimento atteso che è raggiungibile in funzione però al livello di rischio che è stato fissato. C'è una proporzionalità tra un rapporto tra i due elementi, un rapporto molto stretto. La rappresentazione grafica di questi portafogli per esempio la possiamo vedere graficamente in questa slide ovvero questo grafico disegnato con tutti questi puntini rossi, vedete? Ogni puntino rappresenta un possibile portafoglio diverso. Come possiamo vedere è una curva e abbiamo detto che viene realizzata utilizzando due parametri principalmente, il rischio e il rendimento atteso. Per ogni punto del grafico il gestore deve identificare l'insieme delle componenti azionarie, obbligazionarie, monetarie che permettono la realizzazione di ogni singolo puntino. Quindi va a identificare quella specifica combinazione di elementi. Qui il ruolo del gestore è fondamentale perché dovrà identificare e però anche mantenere nel tempo il corretto equilibrio degli elementi che sceglierà per realizzare ogni singolo, ogni diverso profilo. Dal grafico che cosa emerge? Emerge un altro importante concetto. Il concetto che abbiamo citato del livello di rischio, abbiamo detto più volte che è importante tenerlo sotto controllo. In questo momento vedo che siamo molti collegati e sicuramente la parte condivisa da tutti è la ricerca del massimo rendimento realizzabile. Chiaro, questa è la parte che tutti auspichiamo al massimo rendimento realizzabile. Ma la cosa che in questo momento invece ci differenzia, ognuno singolarmente, è che ciascuno di noi tollera un livello di rischio differente. Non abbiamo tutti la stessa tollerabilità, la stessa propensione al rischio. Da qui nasce per l'appunto i punti sul grafico, punti diversi tra di loro. Abbiamo detto che sono tutte combinazioni efficienti, ma che occorre capire bene quale risulta essere la più adeguata al nostro stile di personale, al nostro stile di investitore. E qui appunto dovremmo chiederci qual è sul grafico la posizione più adatta a noi? Quindi che tradotto vuol dire? Qual è il mio approccio ideale di investimento? Ovvero come per il mio stile di investitore? Devo capire qual è quella combinazione che risulta essere per me non troppo rischiosa, ma neanche troppo prudenziale, troppo cauda. È proprio per questo che Fineco Asset Management ha realizzato diverse tipologie di portafogli. Proprio per questa logica di diversi tipologie di approccio all'investimento. Ha realizzato, tra i vari prodotti che ha realizzato, mette a disposizione il FAM Advisory 3, il FAM Advisory 4, il FAM Advisory 5, il FAM Advisory 6, il FAM Advisory 7 e il FAM Advisory 9. Per ciascun profilo Fineco Asset Management identifica e realizza, abbiamo detto, una diversa combinazione, una diversa costruzione di portafoglio. Ripensando al grafico che abbiamo appena visto qualche istante fa, quello con tutti i pallini rossi. Il parametro del rischio viene identificato solitamente con il termine VAR, Value at Risk, il quale valore solitamente viene utilizzato per il calcolo del rischio finanziario di mercato di un titolo o di un intero portafoglio. Quindi, in sostanza, il VAR che cos'è? Il VAR è un indicatore di rischio, lo si può definire così. I numeri che vediamo associati a ciascuna linea FAM Advisory, appunto, quella rappresenta la massima propensione al rischio che viene stimata per questi strumenti finanziari. E quindi abbiamo il FAM Advisory 3, con un livello di VAR massimo del 5,5, il FAM Advisory 4, che ha un livello di VAR pari all'8% massimo, il FAM Advisory 5, con un VAR massimo dell'11%, il FAM Advisory 6, con un VAR massimo del 15, il FAM Advisory 7, con un livello massimo del 21%, e il FAM Advisory 9, con un livello massimo di VAR del 33%. Ciascuno dei vari profili ha, al suo interno, abbiamo detto, una componente diversa, una combinazione diversa di elementi. Facciamoci alcuni esempi. Per esempio, se analizziamo il FAM Advisory 3, che rappresenta il profilo più tranquillo tra tutti e sei profili, tutti e sei portafogli che Fineco Asset Management ci mette a disposizione, la sua composizione quindi del 3, che cosa prevede al suo interno? Una componente obbligazionaria del quasi 73%, una componente azionaria del quasi 14% e una componente monetaria di circa un 13%. Vedete che sul 3 la componente obbligazionaria è decisamente la componente più elevata, più importante per questa strategia di investimento. Se invece andiamo avanti e andiamo a dare un'occhiata al FAM Advisory 6, vedete che il suo livello di aggressività aumenta, aumenterà, sarà diversa la composizione che abbiamo al suo interno. Diciamo che il FAM Advisory 6 può essere considerato tipicamente come un profilo bilanciato. Ed è composto al suo interno da che cosa? La componente obbligazionaria è pesata circa al 60%, al 60%, la componente azionaria al 39% circa e la componente monetaria al 1,80%. Quindi vedete che le pesature sono diverse, sono diverse perché cambia la strategia di investimento. La parte obbligazionaria si è un pochettino alleggerita per lasciare un po' più spazio alla componente azionaria. La parte monetaria in questo caso tra l'una e l'altra, tra la 3 e la 6 in realtà è veramente marginale la differenza. Mentre per un profilo 9 che rappresenta un profilo dinamico, un profilo 9 che è l'ultimo tra i vari profili, da che cosa è composto? Vedremo che avremo un equilibrio ancora diverso e quindi avremo una componente azionaria del poco più del 97%, una componente obbligazionaria circa di mezzo punto percentuale e la componente di liquidità è di circa un 2,5%. Quindi come vedete queste sono pesature ancora più diverse perché la parte azionaria è quella parte che in un FAM Advisory 9 dove c'è una propensione diversa lo potremmo definire un profilo dinamico, un FAM Advisory 9 e questo profilo dinamico è realizzato quasi quasi completamente dalla componente azionaria. Quindi ricordiamoci che per poter costruire il portafoglio, oltre a creare il giusto equilibrio tra le varie linee, il gestore avrà anche una particolare attenzione nello scegliere gli strumenti di qualità, proprio perché ci vuole un come dire trovare il giusto equilibrio tra quello che è la costruzione di asset allocation, quindi l'equilibrio abbiamo detto tra azionario, obbligazionario e monetario, ma nel momento in cui dobbiamo andare a scegliere gli elementi dobbiamo capire quali sono quelli che lavorano, come lavorano a livello finanziario e che qualità questi prodotti gli è stata attribuita in funzione ad analisi di natura finanziaria. Aggiungendo un altro pezzettino, il ruolo del gestore, quindi qual è il ruolo del gestore? Il ruolo del gestore è quindi quello di realizzare delle composizioni di portafoglio, abbiamo detto, composizioni che devono essere di qualità, che abbiano il giusto equilibrio tra quello che è il rischio di portafoglio e il rendimento atteso che questo portafoglio può andare al suo potenziale, può andare a realizzare. Tuttavia ricordiamoci che l'attività del gestore però non si limita a questo, infatti il gestore svolge un costante controllo del portafoglio in modo da monitorare che il fondo di fondi resti sempre all'interno delle bande di oscillazione previste per ciascuna linea, ovvero quella area di intervento, di oscillazione, di volatilità che può assumersi, che però è diversa in funzione alla strategia di investimento seguita. Quindi una banda di oscillazione molto più stretta sui profili più cauti, una banda di oscillazione un po' più ampia sui profili più aggressivi. Un'altra caratteristica importante di questi tipi di prodotto è il tema della loro efficienza fiscale. Questo valore aggiunto è dato dal fatto che sono veri e propri portafogli e tutta l'operatività al suo interno viene svolta direttamente dal gestore. Fintanto che è il gestore a ribilanciare il portafoglio, l'attività svolta dal gestore è fatta all'ordo e non è soggetta alla tassazione del capital gain. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io cliente compro un FAM advisory, per esempio un FAM advisory 6 e lo tengo ad esempio per un periodo medio lungo che può essere 2, 3, 4 anni, durante tutto questo tempo il gestore cosa farà? Svolgerà un'operatività, svolgerà l'operatività quotidiana che sicuramente andrà ad applicare e comporterà per il gestore operare dei ribilanciamenti di portafoglio. Vi ricordate abbiamo detto il ribilanciamento è creare quel corretto mix realizzato per quel tipo di strategia di investimento. Ribilanciamento che figlio quindi della strategia che deve seguire e delle però anche delle opportunità che sul mercato vorrà cogliere proprio per portare beneficio allo strumento stesso. Lungo tutto questo periodo dal suo operato che cosa può generarsi? Potrebbe lui ottenere delle plusvalenze o delle minusvalenze dipende da come opera sul mercato. Tutta questa attività che però è fatta dal gestore è il gestore che opera non è soggetto a tassazione l'attività del gestore e quindi la domanda diventa bene ma quando il fondo sarà soggetto a tassazione? Il fondo sarà soggetto a tassazione solamente nel momento in cui io cliente deciderò di venderlo e sulla plusvalenza che avrò realizzato verrà applicata una tassazione del 26%. Quindi è quando opera il cliente che viene applicata la tassazione ma fin tanto che il gestore a operare le sue attività di ribilanciamento quell'attività viene svolta all'ordo e quindi non ne prevede l'applicazione. Quindi come abbiamo visto tutti questi prodotti ci permettono di avere anche che cosa oltre a le caratteristiche di natura finanziaria che abbiamo detto prima c'è anche un altro valore aggiunto che è l'efficienza fiscale. Ma aggiungiamo un altro pezzettino. Per quanto riguarda le tipologie con le quali posso accedere a questo tipo di strumento il prodotto FAM Advisory è stato realizzato anche in diverse tipologie quindi in forma d'accumulazione, in forma distribuzione, può essere sottoscritto in forma PIC piuttosto che in forma PAC partendo da distribuzione e accumulazione. Qual è la differenza tra le due modalità? La versione a distribuzione periodicamente mi permette di avere un flusso di cassa proveniente dal prodotto, quella a distribuzione. In sostanza per i prodotti che abbiamo visto Fineco Asset Management identifica e quantifica una cedola e questa verrà accreditata sul conto corrente. Quindi se ho necessità di un flusso di cassa su conto corrente occorrerà utilizzare la forma distribuzione. Nel caso in cui invece abbiamo necessità o meglio scusatemi non abbiamo la necessità dell'accredito della cedola allora se non ci occorre questa cedola sarà possibile optare per una forma d'accumulazione e quindi in questo caso quanto verrà realizzato dal prodotto rimarrà al suo interno e quindi aumenterà il valore del patrimonio investito. Quindi questa è la differenza sostanziale tra la modalità a distribuzione e la modalità ad accumulazione. E ancora se invece di investire tutto e subito decisessimo di fare un investimento programmato, un investimento graduale, è possibile ricorrere alla forma PAC. La forma PAC vuol dire proprio la definizione di PAC è piano di accumulo del capitale. Ricordiamoci che anche in questo caso esistono due modalità di investimento la forma PIC e la forma PAC. La modalità PIC prevede che l'investimento venga fatto tutto in un'unica soluzione. Questo è il PIC. Il fatto di fare un investimento in un'unica soluzione non preclude che se volessi aumentare il valore dell'investimento e volessi fare dei versamenti aggiuntivi magari successivamente non è un problema, anzi li potrò fare tranquillamente in qualsiasi momento. Quindi non c'è nessun tipo di preclusione ai versamenti aggiuntivi. La modalità PAC invece prevede un piano di accumulo che può essere mensile o trimestrale. Questo ci permette di programmare quanto vorrà investire in quanto tempo attraverso degli acquisti programmati periodici e automatici. In questo caso è importante pensare però identificare quant'è il valore complessivo che voglio destinare a questo investimento, proprio perché avendo un piano di accumulo dovrò capire quant'è a quel punto il valore da attribuire a ciascuna rata del mio piano. Quindi come abbiamo visto esistono prodotti adatti a tutte le esigenze, dal più cautelativo al più dinamico, adatti ad ogni tipo di strategia di investimento, grazie proprio alle caratteristiche dei prodotti e grazie anche alle diverse modalità di sottoscrizione. Che abbiamo detto esistono la forma ad accumulazione, la forma distribuzione, la modalità PIC e la modalità PAC. Ora entriamo in piattaforma Fineco e andiamo a vedere dove possiamo trovare le informazioni che possono esservi utili proprio per poter capire ancora di più gli strumenti e prendere visione di tutte quelle informazioni che vi occorrono. E durante la navigazione ne approfitto anche per rispondere alle domande che nel frattempo sono arrivate. Quindi il primo passaggio è entrare sul sito clienti, inserire il vostro codice utente e la vostra password per poter accedere e così entrare all'interno. vi faccio vedere. Farò la stessa azione, un istante solo, che così accedo e vi condivido la mia pagina. Ok, allora, un istante ancora, sta caricando la pagina, eccola qua. Allora, sono entrato all'interno del sito clienti, ho cliccato su consulenza investimenti, cliccando su consulenza investimenti si apre questa pagina e sulla sinistra trovo la voce fondi. Cliccando su fondi c'è la voce sotto fondi che si chiama ricerca fondi. Ricerca fondi è quel tool di ricerca che mi permette di prendere visione delle varie o di effettuare delle ricerche sulle tipologie di prodotti finanziari. In questo momento scriverò advisory con la y finale, advisory, e cliccherò su cerca. Cliccando su cerca il tool mi restituirà tutti quei prodotti che rispettano il mio criterio di ricerca, che abbiamo detto in questo caso essere soltanto la parola advisory. Io per comodità mi piace ordinarli per nome, quindi clicco sulla colonna nome e mi verranno riepilogati. Per poter prendere visione delle caratteristiche è molto semplice. Basta cliccare, se vogliamo vedere la scheda del prodotto, clicchiamo sul nome del prodotto, vedete per esempio farm advisory, fine co-asset management, advisory 5, eur, classe L ad accumulazione. Qui hack e dist identifica proprio quell'elemento di cui vi parlavo prima accumulazione e distribuzione. Cliccando sul nome mi compare la scheda del prodotto. Allora, tra le domande, un istante solo, mi viene chiesto cosa si intende per componente monetaria. Allora, come per la parte azionaria e obbligazionaria, anche la componente monetaria non è da intendersi come liquidità di conto corrente, ma investimenti in prodotti considerati monetari, proprio per gli elementi che li compongono. Quindi è proprio un asset class, non ci riferiamo quindi a liquidità di conto, ma strumenti investiti sul mercato, categorizzati e considerati come prodotti monetari di liquidità. Allora, poi, per prendere visione, che cosa troviamo nella scheda? Tutta la parte relative rendimenti. Se volessi prendere, allora, abbiamo detto che esistono diversi tipi di strumenti finanziari. Se volessi andare a guardare le performance, le composizioni, i ranking e così via, vedete che in ogni pagina vengono racchiuse informazioni diverse. Quindi troviamo la pagina che riguarda la composizione, che mi fa la scomposizione del portafoglio per posizione netta dell'asset, la posizione long, la posizione short e così via. Quindi questa è la scheda finanziaria proprio della composizione del portafoglio. E sotto troviamo la parte distribuita anche per settori e ripartizione geografica. Poi, andando ancora avanti, c'è tutta la parte relativa ai rendimenti, divisi in orizzonti temporali differenti, vedete, e la parte relativa al rischio rendimento con analisi di natura finanziaria. Per poter capire, invece, quali sono i minimi di investimento, per esempio, ho la categorizzazione come categoria, come categoria strumento. Esistono tantissime categorizzazioni, per esempio, la macro categorizzazione, quella che mi porta a dire se il fondo è azionario, obbligazionario, monetario, bilanciato, un settoriale e così via. Qui troviamo le diverse categorizzazioni. Questo prodotto è considerato un bilanciato ed è il FAM Advisory 5, abbiamo detto. Scorrendo ancora, che cosa mi dice? Mi dice se ci sono commissioni di ingresso, in questo caso la classe L non prevede commissioni di ingresso, poi però prevede commissioni di gestione e altre tipologie di commissioni. Tra l'altro, tra le varie domande, mi viene chiesto dei costi. Tra poco vi farò vedere dove potete andare a vedere i costi di ogni singolo strumento finanziario. Sempre rimanendo in questa pagina, vedete anche i minimi di investimento. Posso applicare un minimo di investimento di 100 euro, investimenti successivi sempre di 100 euro, e se decidessi di fare un investimento di tipo PAC, i minimi di investimento sono di 50 euro. Come faccio a sottoscrivere il prodotto e che altro tipo di informazioni posso prendere visione tra quei costi? È facile. Dalla pagina precedente abbiamo visto che trovate tutte le tipologie di strumento finanziario. Entrando, cliccando sul nome nella pagina, qua in alto potrete cliccare su ordina. Non vi preoccupate, tanto l'ordine non parte finché non deciderete voi di voler acquistare il prodotto e a quel punto vi verrà richiesto di inserire il PIN. Ma fin tanto che non inserite il PIN, voi potete serenamente e tranquillamente consultare tutte le informazioni che trovate in maschera. Se volessi fare un acquisto, vedete, modalità ordine e la modalità PIC, il piano di accumulo riguarda la modalità PAC. Per invece prendere visione delle informazioni che mi avete chiesto, adesso vi faccio vedere dove, simuliamo un acquisto di prodotto. Quindi cliccherò su compra, qui imposterò l'importo che voglio acquistare, 1000 euro e a quel punto il tool ci dirà attenzione però per poter andare avanti è importante prendere visione del KID e del modulo di sottoscrizione. Il KID che cos'è? Il KID è un documento che racchiude le informazioni chiave dell'investimento che possono essere l'obiettivo, la politica di investimento, il profilo di rischio, le spese, i costi eccetera. Quindi qui oltre a trovare tutte queste informazioni, vedete tutta la parte alta riguarda lo scopo, che cos'è il prodotto, qual è il suo obiettivo e così via. Sempre qui trovate la tipologia, l'indicatore di rischio per come è stato categorizzato e scorrendo ancora trovate tutta la parte relativa ai costi. Quindi vedete? Eccola qua. Composizione dei costi. In questo caso è una classe L, non ha costi di ingresso e non ha costi di uscita, ha la commissione di gestione pari all'1,99, costi di transazione e non ha commissione di performance. Non ha commissione di performance perché la politica di Fineco Asset Management non prevede questa tipologia di costo, tipologia che su qualche altro prodotto finanziario di altre case potreste anche andare a trovare, ma non è una caratteristica di Fineco Asset Management. Quindi presa visione del KID, presa visione del modulo di sottoscrizione. Anche qui il modulo di sottoscrizione va letto, va scorso, se volete lo potete salvare sul vostro PC, aprite una cartella e lì lo potete salvare. Un attimo solo. Ok. Adesso rispondo anche a quell'altra domanda. Lo prendete, lo salvate sul PC, ma non è necessario compilarlo a mano e spedirlo, perché essendoci la firma digitale in realtà automaticamente è come se l'aveste compilato e firmato. Quindi se volete salvatevelo, sicuramente leggetevelo, salvatelo, ma non è necessario compilarlo e spedirlo. Nei momenti in cui i due elementi sono stati letti, viene spuntato che sono stati letti entrambi e si può continuare. Continuando mi viene riepilogato l'operazione e quindi mi sta ricordando che c'è un'operazione di acquisto, l'ISIN che è il codice identificativo dello strumento, un po' come se fosse il codice a barre del prodotto, l'importo di minimo investito, i diritti fissi. I diritti fissi per Fineco Asset Management sono di 6 euro e mi ricorda che non ci sono in questo caso per la classe L, commissioni d'ingresso. Il dettaglio dei costi cliccando troverò tutte le altre informazioni. Quindi in termini economici e in termini percentuali per i miei 1000 euro, quali sono i costi che ruotano su questo tipo di strumento finanziario. Quindi come vedete questo tipo di navigazione la potete tranquillamente fare per tutti i prodotti che volete, che vorrete analizzare. Se invece decidiamo di voler acquistare in modalità PAC lo strumento, mi sarà sufficiente cliccare su PAC. Vi ricordo che la modalità PAC riguarda il piano di accumulo, ovvero non investo tutto e subito, ma decido quanto voglio investire in quanto tempo. Cliccando ancora una volta su compra, che cosa mi verrà richiesto? Mi verrà richiesto di decidere qual è il valore della prima rata e ancora una volta decido magari che la prima rata investo 1000 euro. Poi decido le rate successive da quanto devono essere e magari decido che voglio investire 100 euro ogni rata successiva, quindi dalla seconda in poi. Qual è la periodicità? Abbiamo detto che può essere mensile o trimestrale. Qual è il numero di rate da applicare? Il minimo di rate per un PAC è 12, che equivale a un anno. Il massimo che potete andare a raccogliere come numero rate 999, quindi direi che c'è veramente un ampio spazio per per la mia costruzione. Se volessi magari andare a realizzare un tre anni, clicco su 36, che sono i numeri dei mesi, identifico il giorno del pagamento che voglio che avvenga l'addebito, per esempio mi interessa che l'addebito passi il metà mese, il 15, poi valutate voi quando vi è più comodo come data di riferimento e ancora una volta andrete a prendere visione del kid, leggendolo, salvandolo se voleste anche salvarlo e poi anche del modulo di sottoscrizione, esattamente come prima. Facendo così potrete procedere con l'acquisto. Prima di procedere all'acquisto vi verranno riepilogate tutte le informazioni e ancora una volta potete prendere visione del dettaglio dei costi, che chiaramente la struttura è similare all'altro perché non cambia nulla in questi termini. L'unica differenza è che il prodotto per la prima rata costa 6 euro come diritti fissi, ogni rata successiva costa 60 centesimi. Mi viene chiesto cosa succede alla scadenza dei 36 mesi, non succede assolutamente nulla, lo strumento resta investito sul dossier, quindi non avrai addebiti di altre rate successive, proprio perché il piano di accumulo è stato impostato per 36 mesi. prego. Allora, un istante ancora che leggo qualche altra domanda. Allora, i costi l'abbiamo trattato il tema del costo. L ed L1, qual è la differenza tra le classi? La differenza tra le classi dipende proprio se il prodotto prevede un costo di sottoscrizione, un upfront oppure no. Solitamente la classe L1 prevede un upfront, cioè un costo di sottoscrizione e ha poi però commissione di gestione più basse. Il minimo di investimento della classe L1 però è anche più alto rispetto alla classe L, quindi questa è la differenza sostanziale. Poi, 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 mi viene chiesto se in questo tipo di investimenti sono previsti dividendi e se vengono reinvestiti o possono essere accreditati sul conto. Allora, dicevamo, dipende da quale prodotto andrete e decidete di acquistare, se prendete la formula distribuzione è previsto lo stacco del dividendo e a quel punto lo stacco del dividendo viene accreditato su conto corrente. Ok. Bene. Allora, siamo in arrivo, siamo addirittura di arrivo alla conclusione di questo webinar e questo mi permette di riepilogare quello che abbiamo visto insieme, ovvero, oltre a capire insieme qual è il ruolo che ricopre la diversificazione e il rischio di portafoglio, abbiamo visto che i FAM advisory si poggiano su tre pilastri molto importanti che sono la diversificazione, ovvero identificare quali elementi importanti per il portafoglio e trovare il giusto equilibrio tra di loro. Questo vuol dire identificare un portafoglio che risulti essere diversificato come asset allocation, ma anche come distribuzione geografica, esposizione valutaria e così via. Controllo automatico del rischio. Altro punto importante che vuol dire che Fineco Asset Management dovrà identificare e rimanere su un profilo di rischio rendimento identificato e per poterlo fare lo fa attraverso una continua analisi degli investimenti e l'attività di ribilanciamento del portafoglio. Ribilanciamento che può operare in qualsiasi momento quante volte vuole. Non dimentichiamoci poi del ruolo fondamentale che assume il gestore, cioè colui che ha gli strumenti di analisi e che ha il compito di mantenere il portafoglio in equilibrio nel tempo, ricordando però che deve sempre prestare attenzione e avere lo sguardo rivolto verso proprio a quello che accade sui mercati. Infine, ma non meno importante, il tema appunto dell'efficienza fiscale, ossia tutti i ribilanciamenti, vi ricordo, tutti i ribilanciamenti fatti direttamente dal gestore vengono fatti all'ordo e quindi non è prevista la tassazione. La tassazione invece è prevista, ricordiamoci, quando ci sarà l'azione del cliente che deciderà di disinvestire totalmente o parzialmente in prodotto. Allora lì verrà applicata la tassazione al capital gain. Allora, come vi dicevo in apertura, questo webinar lo potete andare a rivedere scorrendo la pagina di Fineco, andate fino in fondo alla pagina, troverete un link che vi rimanda alla formazione, troverete ancora una volta il link come video library, dal menu a tendina alla voce investing e così potrete rivedere il webinar di oggi. Vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e arrivederci, alla prossima!